Si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale veneziale di Isernia in preda a problemi di natura gastrointestinale. Dopo essere stata visitata dai medici è stata parcheggiata nello stesso reparto di urgenza in attesa che si liberasse un posto nel reparto di medicina, ma dopo quattro giorni è morta. La vittima è una donna di 61 anni, originaria di Agnone, ma residente di Isernia, molto conosciuta in città e impiegata presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decesso è sopraggiunto mentre la donna era ancora al pronto soccorso e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita, ma hanno immediatamente segnalato il caso alla direzione sanitaria chiedendo l'autopsia sul corpo della paziente affinché venga fatta piena luce sulle cause che hanno provocato la morte. L'esame sarà eseguito domani mattina dal medico legale Massimiliano Guerriero di Campobasso. Una vicenda drammatica che ripropone con altrettanta drammaticità la situazione in cui si trova il veneziale letteralmente smantellato. Il reparto di emergenza urgenza non riesce più a garantire le prestazioni adeguate per mancanza di personale. I medici e gli infermieri, i pochi rimasti, sono costretti a turni massacranti e da mesi denunciano le difficoltà in cui sono costretti a lavorare con ripercussioni gravissime sull'assistenza ai pazienti. Carenza di organico e tagli indiscriminati ai posti letto. Questa è la situazione all'ospedale di Isernia. Ma è solo l'inizio perché stando a quanto prevedono i piani operativi illustrati dal governatore Frattura in Consiglio regionale, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente con la previsione di nuovi ulteriori tagli. La sanità molisana è ormai sull'orlo del baratro e chi può va curarsi altrove.